Un altro significativo passo in avanti per il risanamento del bacino idrografico del fiume Sarno. Proseguono infatti le opere che fanno parte del progetto Energie per il Sarno, messo in campo grazie alla sinergia tra Gori, Regione Campania ed Ente Idrico Campano. In tale ambito si inseriscono anche i lavori per il completamento della rete fognaria nel comune di Nocera Inferiore. È uno scarico che fino ad oggi, poi fortunatamente grazie all'impegno di tutti, verrà chiuso che purtroppo scarica circa 7.000 abitanti nel torrente Solofrana più un'industria conserviera e con questo intervento riusciremo a portare a depurazione questa aliquota di cittadini che attualmente non sono collegati. Passo dopo passo stiamo realizzando la strategia di disinguinamento totale del fiume Sarno. Step by step, lavoro quotidiano, impegno, determinazione, volontà ci portano a liberare il fiume da tanti scarichi abusivi. Mettiamo un punto importante per il quale abbiamo lavorato nella passata consigliatura io da consigliere comunale, oggi ne vediamo i frutti, chiudiamo uno scarico importante. Andiamo verso quell'opera di completamento della rete fognaria che ci sta interessando poi il centro cittadino. Speriamo che in autunno inizieremo anche con il secondo lotto che vedrà coinvolto l'area industriale, l'area periferica così da dotare di infrastrutture finalmente un'area industriale di fosse imperatore. Grazie a tutti! Grazie a voi! Grazie a tutti!